hola amico sora ciao a tutti che cos'è che cosa questa è una cosita va bene abbiamo visto e che così te invece questa qua è una palla da biliardo ok abbiamo capito giustamente la differenza tra le cose va bene amici ben arrivati e ben ritrovati in nostro canale laura salutato sei felicissima per cosa mi sono svegliata più o meno come le 5 30 della mattina 25 io ho visto per caso il cellulare io ho visto un mare dei commenti davide infatti e infatti noi vi ringraziamo di questo perché siamo arrivati quasi a 1500 iscritti noi siamo partiti diciamo facendovi sentire quello che razionavamo col cuore delle nostre canzoni poi sono arrivati artisti come dimanche sono arrivati laura sono arrivati tutti lara scusami tutti gli altri artisti dell'euro vision che ci hanno portato una soffiata di freschezza nelle nostre reaction e ci hanno portato tante persone e noi dobbiamo ringraziarvi perché soprattutto non siamo focalizzati soltanto in italia ma prendiamo tutto il globo e questo ci fa piacere perché noi siamo una coppia multietnica quindi noi già non siamo nella stessa nazione quindi amiamo il fatto che tante nazioni ci salutino ci amino insomma ci fa piacere infatti questa canale sta diventando più internazionale sì esatto noi questo qua rendiamo merito a voi oggi proprio perché siamo innamorati di voi e ci avete fatto innamorare di un artista laura 1 2 3 dimash andremo a reazione di dimash con la canzone olimpico perfetto meglio di così andiamo subito a reazionarla e a venerla con voi questo è uno spettacolo che ha fatto dimash in digitale solo per in digitale bello sembra l'inizio di un film della Walt Disney no? bello 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 Oh, ecchiette noi, gravi toda c'era, e mozzi infermene noi. Sei forte stai, sei forte stai, e non aver paura. Sei forte stai, sei forte stai, tu sei più forte nei tuoi fai. E io città, e io città, del generoso cuore, raggiungilo, abbracciarai. Poi, non ti amati, amatà, frate manza e libertà, questo mondo fa il proprio te. E io città, e tu sei più spesso, ai tutti noi, tu vai tutto. E io città, e tu sei più spesso, ai sempre qui, tu sei mai, Grazie a tutti. 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 Oh. 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 Wow. Wow. Anche adesso hai sentito, Laura? Abbiamo sentito tante tonalità. Certo, perché lui fa sei ottave, ottavo, ottave, è vero? Ottave. Ottave. E cinque semitoni. Sì. Quindi lui ti fa sentire un mare di emozioni che ha dentro del corpo. Infatti vogliamo ringraziare quelli che ci hanno fatto sentire questa canzone perché realmente lì dimostra proprio tutto il suo equipaggiamento, posso dire così. C'è il suo completamento della sua voce, cioè delle tante voci, è eccezionale, eccezionale. Una canzone del genere dovevamo fare almeno tre persone, invece lui da sola. Bene. Cioè a parte gli effetti, a parte tutto il coro, è stata veramente fenomenale. Dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine. Ci ha emozionato tanto, ma internamente soprattutto, a me mi ha emozionato tanto facendomi vivere questo sogno, ma non è la prima volta che già Dimash riesce a farmi sentire così. In più le parole che diceva, no? Sì, in italiano. La canzone è bellissima, è bella, bella, bella. Ragazzi, non finiremo mai di ringraziarvi sempre per le vostre ottime scelte che ci fate fare, quindi per i consigli che ci date. Anche questa volta avete vinto voi e avete vinto dentro il nostro cuore. Laura, siamo mai saluti, ringraziamo ancora i nostri amici, li invitiamo a iscriversi al nostro canale, a commentare e poi a rivederci presto, perché se attivano la campanellina potranno sentire quando squilla e noi stiamo arrivando. Sì, sì. Ciao allora da parte Davide. Un beso a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.